ciao socio siamo allegri oggi sto imparando a ballare senti ciccia ti devo dire una cosa me la dirai più in là ciccia ti devo dire una cosa più in là ciccia ti devo dire una cosa è più in là e più in là vado a ferire attraverso il muore me la dirai più tardi più tardi però pensiamo ai risultati pensiamo ai risultati sono sicuro che col mio sistemino di 600 lire questa settimana diventeremo milionari ha dato i risultati no ancora no col tuo sistema ci sistemeremo però non è infallibile beh non esistono sistema infallibile esistono esistono ciccia esistono e chi ce l'ha ne ho uno io infallibile sicuro sicurissimo e perché non me l'hai detto prima l'ho perfezionato stamattina aspetta sei sicuro quello che dici sicurissimo che c'è vai di che si tratta aspetta aspetta i muri non hanno orecchi ma sentono sbrigati aspetta quante sono le partite 13 prima partita scriviti uno i che sa due tripla seconda partita uno i che sa due scrive scrive e così con la quarta partita con la quinta con la sesta con la settima con l'ottava con la nona con la decima e cos'è via tutte e 13 partite uno i che sa due uno i che sa due e così tu metti i soldi e io metto il sistema il braccio e la mente senti tu non sai una cosa e non la voglio sapere piuttosto alza la regna no no alza il volume perché non parli più alto e dove vado a finire io qui ho appuntato tutti i risultati io invece conosco un appuntato un amico mio amici sportivi ne ascolto buonasera grazie prego campionato di calcio divisione nazionale serie a dodicesima giornata del girone di ritorno risultati finali a firenze fiorentina batte spau 1 a 0 1 a bergamo atalanta e la nerossi vicenza 2 a 2 2 a milano milan e inter 0 a 0 3 a torino juventus batte messina 1 a 0 scusi che ha segnato sigori su azione non c'era scritto non c'era scritto a campania capania e lazio 1 a 1 al mezzo venduto al mezzo venduto ha fatto valeggiare il catania si sto incosciente se non paraggiava il catania qui non avremmo fatto 5 capisci prego continui allora vai avanti c'è scusa posso? si si a bologna bologna batte torino 2 a 1 si 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 a Genova Sampdoria batte Mantova 3 a 2 sette! sette la stella dell'osso maggiore sette la moda! si 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 e la mia chiamata! scusi 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 mi scusi 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 come hai detto stavo dicendo a Roma Roma batte Bari 1 a 0 ma insomma la volete finire si o no? eh scusi ma non salapi però perché noi paghiamo il canono va bene se lei ha qualcosa da dire venga fuori dalla radio io gli stacco la valvole